nella regione storica delle baronie adagiato nella valle del cedrino sorge orosei incastonato nell'omonimo golfo celebre in tutto il mondo per le sue spiagge mozzafiato e il suo mare cristallino dai colori sorprendenti circondato da un entroterra selvaggio tutto da scoprire tra boschi di lecci profumata macchia mediterranea e affascinanti siti archeologici d'epoca nuragica orosei accoglie il visitatore nel suo suggestivo centro storico un cuore antico che ancora pulsa di tradizioni religiose culturali e gastronomiche vecchie di secoli orosei un luogo magico in bilico tra mare natura e storia